Le fiamme gialle di Trieste e Napoli, coordinate dalla Procura della Repubblica Partenopea, hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni del valore di oltre 59 milioni di euro nei confronti di cinque soggetti ritenuti responsabili di una frode fiscale nel settore della commercializzazione di carburanti per autotrazione. Tale attività costituisce il proseguo investigativo di indagini che avevano già portato al sequestro eseguito in data 30 marzo 2021 nei confronti della petrolifera italiana SRL. Con il nuovo provvedimento di sequestro esteso il GIP ha ampliato la portata dell'originaria misura ablatoria sulla scorta di ulteriori attività eseguite dai nuclei PEF Napoli e Trieste. In forza di nuovi approfondimenti è stato possibile estendere le contestazioni dei reati fiscali anche nei confronti dei gestori di fatto delle società e disporre il sequestro di provviste, anche nella forma per equivalente, in relazione ad ulteriori ipotesi di violazioni fiscali, utilizzo ed emissione di fattori per operazioni inesistenti, tanto ai rappresentanti legali quanto ai gestori di fatto delle società. L'importo sequestrato è rappresentato dalle imposte evasi ed ammonta oltre 59 milioni di euro. Le originarie contestazioni attenevano alla presentazione di dichiarazione fraudolenta di imposta per l'anno 2017 dalla petrolifera italiana SRL e all'omessa dichiarazione, per l'anno sempre 2017, si aggiungono ora le ipotesi di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e l'emissione di fatturazioni fasulle per l'anno 2018, per oltre 30 milioni di euro, e fittizi acquisti e gestioni di carburante da parte della petrolifera italiana, con diverse società fantasme, tra cui Italian Petroli SRL, Giuliana Petroli SRL e le ditte individuali Aoletta Group e Vincent Group. Ciò ha comportato l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto per circa 7 milioni di euro. Secondo la ricostruzione operata dalla Fiamme Gialle ed in regione dell'istruttoria svolta dalla Procura della Repubblica di Napoli, la petrolifera italiana si sarebbe collocata al centro di un complesso gruppo di imprese dislocate sull'intero territorio nazionale. I titolari di fatto dell'azienda, in concorso con i gestori legali delle società, hanno venduto milioni di litri di prodotto energetico a società cartiere fittiziamente dichiarate sia esportatori abituali, che proprio in virtù di tale falsa qualifica potevano acquistare i prodotti senza applicazione dell'IVA. Successivamente le società acquirenti rivendevano gli stessi prodotti applicando l'IVA al cliente finale, che però poi non la versavano all'erario, meccanismo fraudolente o tipico della fraude carosello. Per effetto delle condotte contestate, oltre al milionario danno all'erario, la petrolifera italiana SRL avrebbe negli anni assunto una posizione dominante sul mercato, stravolgendo di fatto anche le regole della concorrenza.